Seguiteci, oggi vi racconteremo la terza edizione di Tracce d'Arte nel Borgo. A Formello, presso Arte Studio di Sonia Martelloni. Sabato 30 e domenica 31 luglio si è tenuta una mostra di pittura, artigianato, fiori, miele e altri segreti. Un concerto di colori lungo le vie dello Spannitore. Un concerto di Sonia Martelloni. La magia di un'atmosfera familiare e mistica avvolgevano l'intero borgo. Non dimenticate di attivare la campanella sul nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati. E iscrivetevi alla nostra pagina Facebook e Instagram News Roma Nord e non solo. Un saluto a tutti voi.